Ciao ragazzi, sono Eppi, bentornati su Mega Wow! Oggi è una giornata un po' particolare, infatti ho organizzato un bellissimo picnic, ma non mi sono dimenticato di voi. Infatti, qui con me c'è la piccolissima e fantastica Sofì! Ciao Eppi, sono felicissima di tornare qui su Mega Wow e... no Eppi, non è carnevale. Oggi passerò quasi 24 ore da Indiana, come puoi vedere ho le piume, i braccialetti e le collane. E dopo ti farò vedere ho anche le frecce. Quindi oggi monteremo una vera e propria tenda da indiano e mi raccomando iscrivetevi al canale di Mega Wow e mettete like se vi piaccio indianetta. Come potete vedere ho usato la pasta per fare le collane, perché è molto bello, fanno effetto sonoro. Ho anche il tamburello. Iniziamo, guardate che bella! Ok, adesso apriamo, oh quanto quanto... Ok, paletti, un tubino e la tenda. Quanto è grande! Ok, manca le finestre vere! Mamma mia, bellissima! Ora c'è un problema, io ne montarla. È enorme! Avrò qualche difficoltà. Infiliamo il primo paletto. Si gonfia! E benvenuti nella mia tenda! È fantastica! Guardate anche la finestrella per vedere. E adesso entriamo dentro. Che flume! Ok, adesso vi faccio un breve tour. Allora, qua c'è il mio fabburello d'indiano. E poi qui abbiamo le mie frecce. Per cacciarmi il cibo, per fare piuum! E piuum! Gli indiani, gli indiani, gli indiani si usavano molto, no? Anche io davvero indiana! No? Le mie tendine, ecco. È bene, gli indiani dormivano. Ma adesso cosa faccio? Gli indiani non avevano né il telefono, né la tv, né il tablet. Cosa facevano tutto il giorno? Io inizio anche ad avere fame. Aspetta, non avevano il frigorifero. Non vorrete mica dire che devo cacciare. Io non caccio. Uh, ma cosa vedo là? Delle erbette. Potrei fare delle spezie. Andiamo a vedere le erbette. Ehi, ma guardate cosa c'è. Qua abbiamo un bel bastone. Da vecchio indiano. E una bella arma. Va bene, questi ci serviranno. Allora, adesso andiamo in giro. Ho messo un po' di legname per fare un bel fuoco. Ma poi ho preso delle pigne. Vediamo se ci sono i pinoli dentro. Pinolino! Eppi, mi sa che per stasera mi mangerò la pasta della collana. O i braccialetti. Meno male. Accenderemo il fuoco con... Con i legnetti. Sfregheremo i legnetti e farò il fuoco, vero? Uh, ok. D'accordo, si sta accendendo pian piano. State sempre attenti. Fame! Ho fame! E non ho i pinoli! Ho fame! Ho fame! Eppi, io adesso vado un po' in giro, vado ad esplorare con le mie frecce e mi faccio vedere qualche buona idea. Eppi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete i like e iscrivetevi al canale di Mega Wow e anche al mio canale, Sofì Gioca Con Me. Ciao! Ciao, Eppi! Alla prossima! Sì, sì, sono ancora qui. Mi sono dimenticato di preparare dei tramezzini. E che picnic è senza cibo? Beh, ci vediamo lunedì. Ciao!